Un saluto da Ivan di Paco Digit. Oggi proviamo il Samsung Ypsilon Pro, telefono che appartiene alla famiglia Young di Samsung, telefoni con un target prettamente economico o giovanile. Il Pro ha un form factor che richiama alcuni telefoni molto di moda alcuni anni fa, quello dei telefoni con la tastiera QWERTY estesa con il display posizionato sempre in orizzontale, non so, mi vengono in mente Nokia E61 ed E71 o comunque sono ancora attualissimi i BlackBerry. Telefono che gira sul sistema operativo di Google Android in versione 2.3, quindi Gingerbread, telefono che come dicevo è caratterizzato da questa tastiera QWERTY estesa che ha i numeri in seconda funzione che è personalizzabile in questi due tasti a cui si possono associare delle scorciatoie rapide per accedere ad alcune funzioni del telefono. Una tastiera secondo me veramente veramente valida, bello l'utilizzo, molto valido il feedback dei tasti dopo che si riprende confidenza con queste tastiere, vista la recente overdose di telefoni full touch, è veramente gradevole scrivere con queste tastiere. Parte superiore con tasto con la lente di ricerca tipico di Google, tasto di ritorno, un pad ottico che ci permette di muoverci in tutte le selezioni possibili del telefono, tasto Home di Android e il menu contestuale. Parte superiore con display TFT da 2,6 pollici con risoluzione 240x320, quindi un quarter VGA. Il display come dicevo è un display TFT che è ben lontano per quello che riguarda l'enfasi dei colori dai display AMOLED e Super AMOLED che Samsung ci ha abituato a conoscere di recente. Parte superiore con capsule auricolari, sensori di luminosità e di prossimità negati sotto il vetro. Continuiamo con una breve disamina del corpo del telefono, parte destra con il tasto di accensione e spegnimento del telefono o di messa in attesa, presa micro USB che funge da cavo di collegamento e per la ricarica, microfono, parte di sinistra con un piccolo foro per il laccetto e tasto per il controllo del volume, parte superiore con l'incavo per sbloccare la cover posteriore e il jack da 3,5 mm per le cuffie, parte posteriore con un cover, un materiale plastico leggermente zigrinato che aiuta a una corretta impugnatura del telefono, fotocamera da 3,2 megapixel a fuoco fisso sprovvista di flash LED, altoparlante di sistema. Diciamo subito che la fotocamera è una di quelle fotocamere assolutamente basiche che permette di portare a casa degli scatti, degli scatti molto modesti, proprio quando non si può farne a meno, anche la risoluzione di video è molto bassa e corte VGA, quindi 2,40x3,20 a 15 frame secondo. Sotto al cover abbiamo batteria da 1230 mAh e slot per scheda microSD e per la SIM card. Parlando di qualche altra caratteristica hardware del telefono, telefono che viene mosso da un processore single core da 832 MHz, quindi un processore discretamente reattivo, 160 MB di memoria interna fisica, non è divulgato ufficialmente il dato della RAM. Ho installato un programmino di diagnosi Android System Info che alla voce RAM mi dice 289 MB, in questo momento ne abbiamo liberi poco più di 120, quindi la memoria diciamo che intorno ai 300 MB, la memoria RAM. Come dicevo la memoria fisica di soli 160 MB può essere comunque espansa con una scheda microSD. Dico subito che il sistema si muove in maniera estremamente rapida, il processore benché single core, benché sotto il GHz di frequenza, riesce a muovere molto bene il telefono che anche in virtù di una bassa risoluzione del display non è aggravata nelle parti, nei suoi funzionamenti grafici, quindi funziona tutto piuttosto bene. Parliamo un attimo del display. Il display è un display che può essere usato anche come touchscreen perché di fatto lo è un display capacitivo, display che non supporta però il pinch to zoom, lo vedremo dopo magari nella navigazione internet e che devo dire non mi ha per niente entusiasmato, benché, ripeto, non sia un display AMOLED o Super AMOLED, secondo me ci si poteva aspettare un pochino di più e non mi riferisco solo al fatto che la risoluzione è molto bassa, è vero che 2.40 per 3.20 è una risoluzione bassa, ma la diagonale del display non è neanche esagerata, quindi il rapporto pixel-pollici non è poi neanche così dissenato, ogni tanto mi dà quasi la sensazione di essere un pochino sfocato, personalmente proprio non mi è piaciuto questo display. Uscendo dall'impatto estetico del display però bisogna dire che il suo posizionamento in orizzontale ci aiuta nelle funzioni tipiche di questi tipi di telefoni che sono naturalmente quelli della scrittura, quindi della messaggistica di testo, della chat o della mail. Il fatto di avere il display in orizzontale aiuta molto in una corretta visione di quello che stiamo scrivendo. Naturalmente questo viene enfatizzato da questa tastiera fisica che è veramente molto bella da usare. Un'altra osservazione che mi sento di fare in relazione alla disposizione orizzontale del display è una sensazione direi anche abbastanza evidente di un ancora non perfetta integrazione del sistema operativo Android con questo tipo di dispositivi con il display in landscape. Ci sono alcuni programmi che vengono lo stesso scaricati dal market che quindi il telefono accetta ma che non funzionano in maniera corretta perché richiederebbero di essere usati con il display in verticale. Ho fatto una prova che mi rendo conto essere un pochino inutile da certi punti di vista ma la trovo comunque esemplificativa. Andando nella parte telefonica del nostro Galaxy troveremo l'interfaccia grafica che è quella che Samsung usa sempre sui suoi telefoni. Interfaccia grafica che personalmente non gradisco molto, in particolare per quanto riguarda la ricerca rapida dei contatti, trovo che sia un pochino pasticciata. Utilizzo un DLR che si trova di solito sul market, lo utilizzo sui miei telefoni. Ho provato a installarlo e anche questo, oltre al fatto di far comparire la tastiera virtuale che in questo caso non serve, tutta la sua disposizione era sempre messa al contrario della tastiera, quindi era di fatto inutilizzabile. È un problema che può capitare anche con l'utilizzo di altri programmi. Visto che siamo nella interfaccia telefonica, dico subito che la parte telefonica funziona in maniera eccellente. È un telefono che fa bene, molto bene il telefono. Buona recezione da tutte le parti, buono il passaggio da cella a cella, valida anche la qualità della fonia della capsula auricolare. Arrivando a questo punto, come dicevo prima, il telefono riconosce la ricerca intelligente solo se la facciamo dalla parte numerica, quindi se ricordiamo parte del numero che stiamo cercando ci aiuterà a trovare il numero. Se invece da qui digitiamo una lettera, non ci troverà ciò che stiamo cercando, non si riesce ad arrivare a un contatto preciso. Naturalmente se invece andiamo sul registro delle chiamate, troveremo l'elenco delle chiamate, se no potremmo fare come si può fare di costituzione dalla pagina home, digitando sia il nome del contatto che vogliamo trovare o qualsiasi altra cosa, il telefono eseguirà una ricerca a 360 gradi su tutti i contenuti, quindi andrà sia nella cartella di contatti ma anche nel browser o comunque in tutto ciò che c'è nel telefono. Da qui la ricerca intelligente funziona senza nessun tipo di singhiozzo. Andiamo a vedere anche un attimino il browser vediamo un attimo il nostro sito. Mentre carica la pagina, dico subito che il telefono naturalmente è dotato nativamente di tutti quei programmi che Google precarica sul suo sistema operativo Android, quindi la casella di posta elettronica Gmail, il navigatore, Google Maps e tutti quegli strumenti di traduzione, insomma tutto il pacchetto che troviamo sempre nei telefoni Android. Vediamo anche un attimino il browser. Il browser è un altro di quegli elementi che valuto in chiaroscuro. L'impatto che ho avuto iniziale è stato abbastanza traumatico, nel senso che ho giudicato male anche il browser all'inizio, cioè mi sembrava molto lento nel caricare la pagina, non mi dava veramente una buona qualità di utilizzo. Continuando ad approfondirne un po' la conoscenza ci si rende conto che certamente il browser è limitato dalle dimensioni del display, forse è un pochino farraginoso nel caricare la parte finale dei contenuti della pagina e senza dubbio non è aiutato dall'assenza del pinch to zoom. Possiamo fare il doppio tap per zoomare sulla nostra pagina. Dopodiché il browser ha un funzionamento abbastanza normale per i dispositivi Android. Io penso che, viste le ridotti dimensioni di questo display, sarebbe bene navigare con il browser in modalità a colonna, quindi che i contenuti vengano incolonnati e adeguati alla dimensione del display. Ho usato anche in alternativa a questo browser il classico Opera Mini che mi sembra un po' una panacea in queste in queste situazioni di difficoltà. La riformattazione della pagina è sempre corretta e dopo un piccolo rallentamento iniziale poi è tutto molto veloce con Opera Mini. Devo dire appunto non posso nascondere un minimo di delusione nell'utilizzo del browser di questo telefono, soprattutto se relazionato a quanto i dispositivi Android ci hanno abituato negli ultimi periodi. Bene, direi che possiamo dire prima o dimenticato di fare un accenno alle dimensioni del telefono. Il telefono è un telefono con circa 11 cm di altezza, poco più di 6 cm di larghezza e appena poco più di uno di spessore con un peso di poco più di 108 grammi, quindi veramente molto leggero da portare in giro. È un telefono che secondo me ha la sua naturale collocazione in un utilizzo molto molto telefonico, nel senso deve essere usato da chi usa il telefono per telefonare, per messaggiare in qualsiasi forma, un po' meno da chi si è abituato nel tempo ad usare moltissimo la navigazione internet e browser molto molto evoluti. Detto questo è un telefono che secondo me risponde bene a questo tipo di richieste, è un prezzo anche piuttosto competitivo perché si trova intorno ai 150 euro più o meno ovunque e per chi sente la necessità della tastiera fisica direi che quanto di meglio ci sia in giro in questo momento. Ringrazio la Stockhouse di Milano per averci fornito l'esemplare della prova e vi mando un saluto.